buongiorno a tutti ben arrivati al canale misteri dell'egito connobiano oggi parleremo della mastaba la tomba rittangolare mastaba di car o menerah nefer lui visse durante l'epoca del faraone pepe primo quasi 2340 avanti cristo era il padre di edo che ce l'ha una tomba vicina car cosa significa è il bel nome dentro questa tomba possiamo trovare i cartigli i nomi di faraoni che hanno fatto le piramidi che io beh che fren e micirino allora car lui ha avuto questa tomba che si trova all'este della grande piramide di gisa l'infrastruttura solo quella che si trova allora la parte sotterranea che si trova adesso appena si scende c'è una scala che ci porta a una stanzetta piccola così poi si fa porta verso il cortile si chiama il cortile c in cui abbiamo un pilastro centrale abbiamo una statua una nicchia di questo nobile poi abbiamo tre linee di basso rilievo in geroglifico qui anche possiamo vedere car seduto sulla sedia come i nobili poi vediamo davanti a lui dei sacerdoti delle persone che stanno facendo da lui le offerte poi vediamo lui seduto davanti al tavolo delle offerte che c'è il bane che il bane tipo il baguette quello francese non è il bane arabo quello rotondo dietro di lui c'è sua moglie tutti questi sono i titoli e titoli i nomi anche di lui qua vediamo dei sacerdoti davanti a lui stanno facendo anche un rito famoso si chiamava in un dietro di lui vediamo sua moglie di fi e davanti a lui vediamo i sacerdoti stanno facendo un rito si chiamava henu mettendo una mano sul petto e l'altra mano sinistra in alto allora su queste tre linee del geroglifico di basso rilievo si trovano i titoli di car che lui era il sacerdote era lo scriba il capo delle scriba colui che coltivava il terreno i tanti titoli che lui aveva in quel momento il titolo anche principale di lui era sorvegliante della necropoli della piramide di minca ora o micerino come noi diciamo perché per quello troviamo i nomi di loro di questi faraoni erano già scritti là dentro in questo cortile ci si trova un pilastro centrale sul quale si trovano i titoli di car come lo scriba reale di tutti i documenti car come suo nome car che significa bel nome anche lo scriba come lo vediamo avanti una cosa non è normale trovare il suo nome scritto dentro la forma del cartilio non lo sappiamo perché ma era già scritto in quella maniera così poi dopo questa sala si trova un altro cortile si chiama cortile di in cui abbiamo sei statue tutti tagliati nella roccia allora questi sei statue sono tagliati nella roccia nel lato sud del della tomba si trovano quattro statue che sono identiche tutti i quattro tutte le quattro ce l'hanno il cindì della minigonna poi una quinta statua di un ragazzino un bimbo nudo che rappresentando il bimbo nell'epoca egizia sarà sembri nudo come vediamo adesso o ce l'ha l'intreccio dei capelli su un lato della testa poi si vede la sesta statua di lui stesso fatta sempre come la vediamo di una persona rasata con il mantello lungo adesso si passa verso una sala si chiama la sala delle offerte tutta anche tagliata nella roccia nel lato ovest della tomba dove c'è la porta viene chiamata la porta finta e questa porta era una porta funeraria non c'è niente dietro ma davanti a quella qualche volta c'era un tavolo delle offerte e questo tavolo su cui si mettevano le offerte per il diffunto su questa sala possiamo vedere car e dietro di lui ci sono sua moglie e davanti a lui ci sono quelli che fanno le offerte e lui sta annusando il fiore di loto e dietro di lui c'è sua moglie che abbiamo detto il nome prima adesso nel lato ovest della tomba dentro questa sala la sala delle offerte possiamo vedere questa porta che era un elemento funerario nell'antico regno si chiamava la porta finta davanti al quale c'erano sempre le tavole delle offerte su cui c'era sempre il diffunto seduto e davanti a lui c'era il tavolo su cui c'era sempre il pane su questa porta c'erano delle forme le magiche religiose che erano dedicati al dio a nubi al dio usiride ma per la maggior parte si parlava di questa persona del diffunto che lui imahu significava la persona ben preparata davanti al dio grande davanti al dio usiride e così via allora se vi piace questo video potete condividere potete partecipare dare mi piace e grazie tanto per l'ascolto e mistieri dell'egitto con noviano alla prossima